buongiorno amici benvenuti a un nuovo video oggi siamo a milano e abbiamo deciso di fare una sorpresa ai bambini è stata una cosa organizzata da un po però tu conoscerai nuovi amici ma tu non sai che conoscerai oggi loro non sanno nulla quindi ben venga la sorpresa andrò dovunque andrai altrove no quando balli il tuo corpo si muove col mio e questa notte sembra non ti voltare da qui da qui le strade sembrano il tetto la musica sono un arro e non mi importa se non sei più non è importante e sono un arro tutte le volte che ricco e ti ho messo da non è importante balla lentamente senza dire niente con la faccia al sole la tua pelle che sa di sale ballo lentamente come fosse mai al giorno tu la notte tuo viso pulito il mio pieno di botte l'emozione l'emozione ma avremo altre occasioni da rivederci e quando il sole chiede alla luna dove andrò andrò dovunque andrai altrove no quando balli il tuo corpo si muove col mio e questa notte sembra non ti voltare da qui da qui le strade sembrano il tetto la musica dun 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 mediterranea devi farmi le chiuse concerti allora dimmi un po' sei felice che hai incontrato i rama? si quanto? tanto ma cosa ti ha regalato? la collanina fa vedere e che cos'è quella? una piuma la sua piuma che bello ma dimmi poterla toglierai più questa collana? ti volevo dire una cosa ma quando è che il rama viene a casa nostra? cioè tu vuoi che venga a casa tua per sempre eh lo so lo so comunque è stata una bella esperienza vero? si è stato un bel regalo si ci siamo impegnate abbastanza l'importante è che tu sia felice a me non è importante e sono un arro tutte le volte che eri qui ti ho messo da non è importante balla lentamente oh e oh senza dire niente oh e oh con la faccia al sole la tua pelle che sa di sale oh e oh ballo lentamente oh e oh come fossi meglio il giorno tu la notte tuo viso pulito il mio pieno di botte bravissima bravissima bravissima